Ciao a tutti ragazzi, è peffero di questo nuovo video di tecnologia E come ogni volta che registro ci sono sempre cresciti che mi distruggono i coglioni E ho mutato il tsc, ok, è peffero di questo nuovo video Sono come al solito nella mia casetta E c'ho un paio di novità, un paio di situazioni, un paio di cosette che dovrei fare Mi sono dimenticato quello che stavo a fare, boh, ma che ne so Stavo costruendo Quello che stavo facendo, più che altro, era progettare Vediamo un po' che se i blades riesco a metterli qui perché non mi piacciono lì dentro Era progettare la nuova zona in cui andrò a vivere tra tantissime virgolette Perché probabilmente non ci andrò a vivere Sarà tipo quasi un magazzino E questa zona volevo farla con gli explating Anche se non mi convincono molto Cioè si sono belli Però c'è qualcosa che non mi sconfinfra nell'utilizzarli Ecco come ve lo posso spiegare Ogni 8 esce 8 Servono blocchi di coal Blocchi di coal non ci vuole un cazzo a farli Oh, sto arrabbi di cricidi Lasciamo fare Allora, gli explating Sono dei blocchi molto faighi Che a me piacciono un casino Però c'è un casino di coal per farli E ovviamente ogni stack di explating serve uno stack di stone Quindi dovrò produrmela io manualmente Dopo alle ho finito il coal Me ne serve altro L'aspettate che fa un bordello Oh, è lì nel frattempo, eh Eh, mi pare il momento Mo' cominciano tutto insieme Com'è il solito ragazzi Io comincio a registrare Questi piani e sbroccano Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 E mi servono un altro po' Aspetta, mi metto qui dentro 1, 2, 3, eh No, ah sì, sì, preciso, preciso Mamma mia 1, 2, 3, perfetti 9 stack di coal E qui ce n'è uno in più Che mi sono scordato Perché sono un demente Ma quelli sono in dettaglio Ok, 64, 64, 64, 64 Ale Uno stack di blocchi di carbone Posso fare uno stack di blocchi di explating E Ale Ho 16 stack di explating 16 stack Già qualcosa viene fuori Non molto Ma qualcosa dovrei riuscire a fare Adesso vi faccio vedere Dove voglio costruire Ed è esattamente dove Ho concluso le rotaglie Nell'ultimo episodio Non so se avete visto Dove le ho tirate Però mi serve un kart Perché sennò non ci arriverò Mai Eccoci qua Allora Stiamo a finire I kart impallati Come al solito Perché si sono impallati qui? Senza motivo Ah, si impallano qui in curve Eh, lo so ragazzi Le curve non piacciono I kart Dovrei mettere un altro acceleratore qui Ma non mi foste niente Tanto la rotaglia Mola continuo Allora, ecco qui ragazzi La rotaglia l'ho continuata Fino a dove spariscono di vista Le farm Che non so se è abbastanza lontano Smettete Dopo vi do da mangiare Adesso no Non rompete le palle Mamma mia Che caga cazzi Eh, comunque dicevo Le ho fatto già un contorno Di come dovrebbe venire la struttura Però non so come farla Ecco, sono molto dubbioso E effettivamente Se mi fosse portato un filler Sarebbe stato meglio Vabbè, ora faccio vedere un po' L'area che ho designato Vedete Ormai sto seguendo praticamente Esclusivamente i shank Seguo solo i shank E è venuto tipo una cosa del genere Vedete Tipo un grande Lì Quello 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 lì E quello lì Sono quattro angoli Vedete È una cosa enorme Però mi serve un filler Dovendo prendere il filler Torno subito Mamma mia Che roba troppo mongola Raga voi non avete idea Oddio mi sono messo Mi sono addormentato Avevo lasciato girare il filler Ho detto Bah, adesso Metto a girare il filler Mi poggio un attimo sul letto Ma sono addormentato C'avevo una idea Mi sono addormentato veramente Mentre giravo il filler E che cazzo è successo Ah, almeno ha scavato Almeno Almeno a scavare ha scavato Almeno quello Mamma mia ragazzi Non avete idea Che cosa stranissima Ho detto Mi metto due minuti sul letto Non c'ho più niente sonno E mi sono addormentato Che cosa stranissima Vedete la lampada C'ha cose strane Oddio Spero che vada tutto bene Perché il pc Dopo che lo lascia acceso Tipo tutte queste ore Si comincia a sfanculare Perché Ora c'è tutto aperto Programma per registrare Minecraft I giochi sotto C'è altri giochi aperti sotto Spero non si sentano Si sentano soni strani Non credo Ho lasciato troppa roba aperta E si è sfanculato tutto Allora Ho fatto questo buco Come vi ho detto Che volevo fare Con la struttura gigante Per immagazzinare la roba Soltanto che Non so come fare le pareti Volevo farli con Con l'explating Utilizzare quelle rosse E non quelle verdi Perché la vecchia tecnologia Era tutta verde Questa è tutta rossa Non so perché Dalla intro La intro è rossa Allora facciamo gli explating Rossi Per cattiveria E non credo Basteranno Non ecco per niente A proposito Se io volessi fare Solo le pareti Explating E il pavimento Di un altro tipo Come faccio? Non posso Perché box Prende sopra le pareti Tutto quanto Azzo Questo potrebbe essere Un problemino Dovrei fare tipo Fill Però devo spostare I cosi I landmark Dovrei ripiazzarli Da capo da zero Mamma mia Cioè devo fare parete Per parete E per forza Non posso fare trimenti Ok il jetpack ce l'ho Sì 43% Basta avanza Ok ragazzi Metto a fare tutte le pareti Di explating L'unica soluzione È questa Però l'altezza Quanto posso farla alta? Cioè a me mi interessa Che la struttura esca Dal terreno Beh effettivamente Uscire un po' Non sarebbe una cattiva idea Giusto per No nemmeno Non serve No non è necessario Io faccio solo Le pareti così Giuste giuste Sul bordino Che ho scelto qui Perché no? Sì sì Non mi dispiace Quindi facciamo Le pareti La smetti di lampaggiare Stupida la lampada La pareti Sì 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 Mi va benissimo Mi va benissimo Ragazzi Tutto l'incoglione De sono Una vedita Mi sono alzata adesso Non lo so Oh Che roba strana Vi giuro Non mi sarei mai aspettato Adormentarmi Ok Ripiamo tutti i dexplating Immolitalità Fill E ovviamente Devo portare la batteria Perché altrimenti Il filler non parte Senza batteria Nada di nada Anzi una cosa Che voglio farvi notare È che io setto la batteria Con l'output a 1000 Può non sembrare utile Però C'è una gestione migliore Dell'energia Perché il filler Una volta era buggato Se davi troppa energia Se la succhiava tutta pure Se non gli serviva Forse l'hanno fixato Non lo so Però Può darsi Ecco Tutto un può darsi Non ne ho idea Adesso riempiamo tutti I dexplating rosso Perché fa figa Devo fare tutte e quattro le pareti E non credo basti Neanche lontanamente Il materiale che ho Per fare tutte le pareti Infatti me la prenderò Un po' nel culo Però quelli sono dettagli Ecco Finiamo di fare quelli rossi Vediamo un po' Qui come siamo messi Siamo arrivati a fare Appena quattro righe E ho finito i blocchi Alle ragazzi Penso che con tutti quelli Che avevo fino adesso Faccio solo una parete Forse nemmeno una parete Porca paletta Quindi mi servono 8 16 stack Per 4 Mi servono 16 stack Per 4 Di questi 48 stack Ah ok Un po' ne sono avanzati Ok Almeno Però Una quarantina di stack Porca paletta Tanta fortuna E ho finito pure No Le torce Non ce l'ho più Le ho usate tutte No ma che sta a far serio Me le devi ridare almeno Perché qui non l'ha costruito Che fa trolla Perché le stava ancora piazzando Vero Sono sicuro Perché erano ancora in volo Ho spaccato il filo Prima che atterrassero Porca di quella Nel frattempo Nel frattempo Mi sommette a cuocere Gobletstone Perché ci serve Un casino di stone Ovviamente Vi ho detto Per ogni stack Di exploding Mi serve un stack Di stone Quindi almeno 20 stack 40 stack Di gobletstone Devo cuocerli Non ci posso fare niente Ci vorrà tipo una settimana Però dettaglio Io sono stanco Se è fatta pure una certa Vorrei concludere Questo video Che sta durando Una giornata Perché mi sono addormentato Con un dettaglio E non succederà mai Madonna quanto ci vuole Acqua c'è sta roba Cuoci please Poi Come al solito Ovviamente ragazzi Dei farm Mi si fermano sempre Perché non C'hanno spazio Per i sapling Milioni di miliardi Di sapling Che non servono Una minchia Che si intasano Li devo sempre buttare Tutti per terra Così vedete ragazzi Metto tanti al barrel E li schiaffo Tutti Guarda di cazzo Di sapling Non è possibile Pure qui Che gli alberi Non crescono Con i planta Cru accelerator E nemmeno ci sono Ancora Non li ho messi Effettivamente potrei metterli E qui il kart Che si ferma Non si sa perché Ovviamente perché c'è la curvetta Che non ho messo l'acceleratore Ma dettagli Considerate che la rotaia Qui non è ancora completa Perché una volta finito L'ambara fram Là Ci saranno da fare Molte modifiche Ci saranno i monobinari Ci saranno la gestione In basi materiali Ci saranno Un sacco di cose Che non avete idea Poi vi farò vedere Col tempo Non vi preoccupate Portate pazienza Faremo tutto Faremo tutto Un giorno Magari Se fuo c'è la cobblestone Eh raga Sapevo che prima o poi Sarebbe giunto questo momento Purtroppo Mi si è sfasciata la spada Nell'ultima notte Che è passata Ho sfasciato la spada È stato un bruttissimo Un bruttissimo avvenimento Però 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 almeno Ho raccolto abbastanza Xplating Per finire questa parete Credo Sì Vabbè Questa parete l'ho finita Adesso dobbiamo fare Questa parete qui Che è la più importante Quella dove farò La discesa da qui I binari E poi dovrò cominciare A fare nuovi binari Non sembra Ma questo è un quadrato perfetto Non sembra Eh ma lo è Ah Mi potete portare qualche Lavi slasso Ovviamente Le torce Ah Non c'ho nemmeno Lavi slasso Io vado a fare altri Xplating Raga Mi potete finire un altro po' di stack Penso 5 o 6 Basteranno Torniamo un attimo A casuccia Eh A voi sembra facile Raga A me A me Mi finisce più Sta cosa Ecco Mi scrivo pure su Steam Perché mi stanno a cercare Talmente tanto tempo E sto cercando E ho detto Torno fra 5 minuti È in ora che sto cercando Qua c'è sta cobblestone Mamma mia Ancora così stiamo È stata 3 Area 64 Un altro stack Dovrebbe bastare per la parete Almeno piazzo qualche binario Almeno vada avanti Con la struttura Perché alla fine L'importante per me Al momento È che almeno un binario Di quelli che portano La legna Vada a destinazione In modo da completare la struttura E volaggio che è fatto E non sarà così semplice Però purtroppo Perché ovviamente Io qui produco tanta legna Da quella legna che produco Ad esempio i sapling I sapling Non vanno qui alle farm Queste farm qui Producono fili Producono zucchero Tutta sta roba Va tutta lì Andrà tutta indirizzata lì Il discorso è facile arrivare Ecco Il problema è arrivare A quel punto lì Eh Devo finire questa struttura Senza questa struttura Non posso fare nulla Sono bloccatissimo Ho perso pure la spada Sta rifacendo notte Che cazzo E adesso stanotte Non so come mi difenderò Dei zombie Adesso mi avveleno pure Perché passo vicino A sti cosi schifosi Qua sludge boiler Non è vero Mi sono avvelenato GG luck Ovviamente Ovviamente Mi ero dimenticato Le torce Le cose qua Il blu torce Come cazzo si chiamano Landmark Ovviamente Se tu andate le riprende Ti pare che mi ricordo Sempre qualcosa Io impossibile E c'è un creeper Che mi guarda male Eccolo Io lo sapevo Perché quando il creeper Mi guarda male Vuol dire che cominciarono Per cazzo Che andiamo a mettere subito E sta parete è GG Sta parete mi serve proprio L'altra parete è chi se ne fotte Ok Sempre da sinistra Boh Ma che ne so Modalità fill E exploiting Tadam Dovrebbero bastare Per impiere tutto Oh buoni oh Oh Non rompete le palle Non è possibile Ogni giorno questi qui Ogni volta che registro Vengono a rompe E sentite Non so se li sentite Fanno Perché mi chiamano eh Mi chiamano matti proprio E ale E io lo sapevo Non sono bastati manco Per il cazzo Mi servono un sacco di blocchi Ancora Mamma mia Tanta fortuna Mamma mia Che palle Che palle Non è possibile Devo continuare a fare Explating Sta diventando una Però viene figo eh Guardate che figata C'ha il suo perché eh C'ha il suo C'è ne vale la pena eh Guardate che figata Sta venendo proprio bene Mi piace Mi piace Mi piace Il problema è fare la base La base poi come la farò La faccio con questi Magari questi qui blu Che stavo provando Però mi servono un po' assurdi Non so brutti Però è troppo contrasto Rosso col blu Mamma mia Sembra il Mila Sembra Mamma mia cosa brutta Via Mila l'Inter Che è il rosso e blu Ma che ne so Una squadra di calcio C'era una squadra di calcio Rosso e blu se non sbaglio Però Rosso e blu Rosso e nero No il Mila nel rosso e nero Ma cazzo dico Rosso e blu e l'Inter Che dovrebbe essere l'Inter Vabbè dettagli comunque Ok vediamo se ci sono Qualche altro blocchetto Figo da mettere per il pavimento Potrei usare qualche cosa Di acciaio Di acciaio base O anche quei bianchi Quelli che ho usato Quelli futuristici Tipo in acciaio inox Che ho usato per le altre farm Che non sono brutti eh Potrei usare quelli Come il pavimento Il tetto invece Lo faccio di explating Il tetto lo faccio Effettivamente il tetto È un punto di domanda Perché il tetto Non lo so Vabbè vado a casa A fare altri explating Perché non se ne Mi servono Mi servono perché Devo finire sto buco Raga Io saluterei anche qui Perché anzi Devo continuare a fare Magli explating Non posso fare niente Devo aspettare che mi cuoce Quei 20 stack di stone Io finché non li cuocio Io oggi non posso È impossibile Mi sono addormentato Che devo fare E si vediamo domani Domani alle 6 raga Non vi perdete il prossimo episodio Dove avrò sicuramente Finito il buco Perché a me Già mi ha rotto il cazzo Voglio finirlo subito Quindi aspetto Che qua ci si stacca di roba E se vediamo domani Raga Mi raccomando Lasciate un mi piace Fatemi sapere Che ne pensate Le mie strutture Perché vedo che Commentate insomma Che vi piacciono Alcuni che commentano Cose assurde tipo Ti merito un milione di iscritti Non ha senso come commento Mi fa piacere Ma non ha consenso Prefererei commenti creativi Tipo Ma se utilizzi quel blocco lì Che fa così Sarebbe molto più carino Però ho dettagli Ragazzi ciao a tutti E al prossimo video Bella